Prosegue la grande sete dell'agricoltura, messa a dura prova dalle precipitazioni praticamente assenti e dalle temperature al di sopra delle medie. Le centraline, gestite dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, registrano infatti i consumi d'acqua in rigua che non lasciano dubbi. Nel 2021, alla fine di giugno, segnavano 305.000 m3. Un anno più tardi il valore si è impennato fino a sfiorare i 660.000 m3. Così la campagna irrigua del 2022 è destinata a passare negli annali per la fornitura d'acqua che sicuramente supererà di gran lunga le precedenti, ma se le richieste aumentano per il Consorzio di Bonifica, la parola d'ordine resta comunque risparmio della risorsa. Grazie ad un moderno sistema di monitoraggio e telecontrollo, noi del settore irrigazione siamo in grado di osservare le portate e le pressioni in rete e qualora vi sia la necessità di intervenire, quindi un alert dovuto a dei guasti o a delle rotture in rete, possiamo intervenire in maniera tempestiva e quindi arrestare lo spreco della risorsa e arrestare la perdita. Tutto questo è possibile farlo da remoto. Grazie all'ausilio di PC, smartphone e tablet, siamo in grado di inviare il comando agli organi regolatori del flusso in rete e quindi arrestare la perdita. Per avere continuità nel servizio, il Consorzio mette a disposizione un sistema di reperibilità H24, dove vede impegnato tutto il settore e nel caso in cui vi sia la necessità, siamo in grado di intervenire e ripristinare il sistema irriguo. Perché tutto questo, se da un lato è importante arrestare la perdita e quindi evitare i sprechi della risorsa, d'altro canto è anche importante andare subito a ripristinare la rottura. E questo perché? Perché dobbiamo cercare di dare alle aziende una risorsa sempre fruibile. E quindi siamo in grado di farlo grazie ad un accordo quadro con una ditta specializzata, che compatibilmente con l'entità del guasto è in grado di intervenire e di dare un'adeguata risposta in campo, subito, in breve termine. E tutto questo per dare una risposta diretta e quindi dare approvvigionamento continuo alle colture. Come vediamo qui abbiamo un campo di mais che, diciamo, questo periodo fortemente siccitoso sembra non accorgersene.